Presidente Vanchieri, dopo due sconfitte è giunto il momento di potersi riscattare e l'occasione, direi che è anche propizia, si gioca in casa, la Polo Caldarella contro il Quinto, una squadra che comunque non dovrebbe essere un ostacolo insommontabile. Con tutti gli scongiuti del caso ovviamente sei uno sportivo e quindi sai che cosa significa, però certamente ci aspettiamo un riscatto, ci aspettiamo una prova di carattere da parte dei ragazzi, siamo pronti per affrontarla. Naturalmente è auspicata la presenza di tanto pubblico anche perché c'è un evento importante, vogliamo dirlo? Sì perché al di là degli aspetti tecnici ai quali teniamo particolarmente ovviamente, però in questa occasione abbiamo voluto essere presenti con un'iniziativa di solidarietà. Emergency, l'associazione internazionale di Ginostrada è nostra ospite e per la prima volta in Cittadella faremo pagare un biglietto d'ingresso, 5 euro a persona. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione che qui nella nostra provincia a Siracusa fa accoglienza sanitaria, prima accoglienza sanitaria per i migranti.